La situazione era che questi due tavolini dove loro hanno messo la roba per fare la trasporto per appoggiare i caffè che si porteranno via, disturbavano il suolo pubblico e l'intralcio pedonale. Come potete vedere l'intralcio pedonale qua non ce n'è, quindi hanno fatto qualsiasi cosa per farli togliere in poche parole mettendoli in condizioni di non poter lavorare. Ci sono riusciti a quanto pare, perché anzi loro non si sono riusciti, hanno continuato a lasciare i loro tavolini. Oltretutto la polizia municipale voleva multare anche noi che stavamo dando supporto ai ristoratori perché stavano dicendo che gli stavamo instigando a questo comportamento e che adesso ci avrebbero addirittura chiesto che cosa ci facevamo noi in giro e presi i documenti.